finalmente per vincere non dovete fare salti mortali in esclusiva solo per gli abbonati il grande concorso di tele più mette in palio 791 fantastici premi tra i quali 12 lancia delta 12 scooter piaggio zip e una straordinaria piattulisse per partecipare all'estrazione basta essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento e far pervenire a tele più entro venerdì prossimo il coupon che troverete nella guida ai programmi brucia i tempi e con il grande concorso di tele più vincere non è mai stato così facile dal primo all'ultimo punto tele più 2 ti ha fatto vedere l'entusiasmante torneo di flashing ma la stagione del grande tennis non finisce mai i nuovi appuntamenti ti attendono a dicembre ritorna la grand slam cup e a gennaio l'australian open riapre la corsa al grande slot il grande tennis è sempre su tele più i protagonisti più famosi dei suoi film sarebbero scelti come miglior amico da ogni bambino ci divertiremo che spazzo quanti bei giochi ha dato un nuovo significato all'azione e all'avventura del cinema ci ha fatto viaggiare nel tempo benvenuti al giurassi parchi steven spilbo il più grande fabbricatore di soldi il più premiato il più geniale uomo di cinema americano ha raccontato in esclusiva sul tele più attraverso la sua intera filmografia da regista da due del 1971 a schindler's list del 1993 vincitore di sette premi oscar la vista è vita steven spilberg in esclusiva a novembre su tele più a Nuova Laguna Station Vagon Non solo per chi guida Finalmente sera E se ci sono i piatti da lavare Ci vorrebbe un vero amico Come Svelto Più Nuovo fuori e nuovo dentro Perché Svelto Più non solo dissolve Ma elimina l'unto dei piatti Così facilmente che Così facilmente che Con Svelto Più La serata è tutta tua Forse Nuovo Svelto Più Più efficace, più amico, più svelto Vorremmo una macchina La nuova Honda Civic 5 porte Perfetta per una famiglia Orribile Questa ha il motore VTEC E 21 chilometri con un litro Mostruoso Sospensioni a doppi bracci trasversali Deprimente Se volete doppio airbag e ABS Ma che splendida giornata Andiamo a provarla Oh no! È incollata alla strada Oh! Che noia! Prova la BS! Ma non succede mai niente in queste onda Nuova Honda Civic 5 porte Non compratela Alle 19 una commedia brillante Diretta da Dave Launer Un elisir misterioso Complica la vita a due studiosi Pozione d'amore A seguire Nick Nolte e Julia Roberts In una classica commedia giallorosa Sul mondo del giornalista Inviati molto speciali Alle 23 per il ciclo Dedicato a Martin Scorsese Disponibile anche in versione Sottotitolata Quei bravi ragazzi Con Robert De Niro Ray Diota e Joe Pesci Che ottenne l'Oscar Come attore non protagonista Telepiù consiglia la visione Di questo film Ai maggiori di 14 anni